Il Saipem ha 45.000 dipendenti in tutto il mondo, 1.200 sono a Fano, quindi la sede di Fano è una delle maggiori sedi a livello internazionale. Ovviamente l'obiettivo deve essere quello di tutelare la sede, tutelare le professionalità perché sono una eccellenza nel settore dell'industria del petrolifero. E' chiaro che le volontà del gruppo Eni di eliminare 8.800 posti di lavoro a livello mondiale ci fa molto preoccupare, quindi l'impegno del Consiglio regionale e quindi anche nei confronti della Giunta a seguire costantemente la vicenda utilizzando anche il supporto delle altre regioni dove ci sono le altre sedi Saipem perché questa azienda non venga ceduta sul mercato a dei colossi che potrebbero essere francesi, russi piuttosto che cinesi o giapponesi e che potrebbero vedere la sede di Fano soltanto come una bandierina. Noi abbiamo interesse, dopo la crisi economica pesantissima che ha subito il pesarese con la cantieristica e col mobile, non possiamo permetterci di perdere neanche un posto di lavoro da parte di Saipem e abbiamo ovviamente tutto l'interesse che Saipem rimanga una società tutta italiana ma soprattutto che nel pesarese rimanga questa sede che è strategica anche per l'azienda.